Mi chiamo Tullio Reggio, sono un fisico teorico e insegno teorie quantistiche della materia al Politecnico di Torino. Ma non vorrei parlarvi di queste teorie quantistiche, voglio parlarvi di cosmologia, anche se poi le teorie della materia sono rilevanti alla cosmologia. Cosmologia è antichissima, si trova dappertutto in tutte le storie, è commissato anche al tempo degli antichi greci che avevano formulato una cosmologia basata essenzialmente su un universo al cui centro stava la Terra, attorno a cui ruotavano le sfere celesti, l'ultima sfera era la sfera delle stelle fisse, al di là delle stelle fisse si era niente, fosse neppure lo spazio, non si sapeva cosa ci fosse e non era neppure necessario dirlo. I greci avevano delle idee già abbastanza precise sulle dimensioni di questo pezzo di universo e avevano valutato abbastanza bene il diametro della Terra e la distanza della Luna e però avevano sbagliato la distanza del Sole che era dato come circa 15 milioni di chilometri che era la decima parte circa della distanza valutata adesso. L'universo è rimasto finito, c'è rimasto una sfera, una palla diciamo e su questa palla ultima, ripeto, c'erano le stelle fisse che Aristotele riguardava come assolutamente immutabili ed eterne, tutto quello che era dentro invece era mutabile e transiente. credo che l'idea che l'universo fosse infinito sia affacciata la prima volta nel Medioevo, credo che un Marsiglio sofficino, però secondo me la scoperta del canocchiale è quella che ha rivoluzionato veramente la cosmologia. Per esempio con il canocchiale si è scoperto che la Via Latte è fatta di stelle, non è soltanto una striscia di una nebulosità amorfa, ma più ancora ci si è resi conto che le stelle visibili sono nient'altro che dei soli posti a distanze per loro, per quell'epoca, inimmaginabili. E questo ci porta a una prima constatazione, cioè che per capire bene la cosmologia bisogna capire bene la scala delle distanze cosmologiche e quindi tanto varrà spendere un paio di minuti per questa scala di distanza usando quello che chiamo gli scalini del 10.000. La stanza da cui vi sto parlando da un soffitto che è alto circa 4 metri. Lo multiplico per 10.000 e arrivo a 40 km che è la stratosfera. La multiplico ancora per 10.000 e arrivo a circa la distanza della Luna che è la massima distanza mai raggiunta dall'uomo. Altri 10.000 e arriviamo al sistema solare, 4 miliardi di chilometri, 4 ore luce, cioè la luce fa circa un miliardo di chilometri all'ora. Altri 10.000 e arriviamo alla stella più vicina, alfa centauri. Un altro fattore di 10.000 e arriviamo al centro della galassia, che è una specie di enorme ruota che contiene centinaia di miliardi di stelle e poi altri 10.000 e arriviamo sulla scala cosmologica di cui parlerò oltre. Non c'è un altro salto perché l'universo finisce un pochino più in là, c'è solo più un fattore 100 ma poi basta. Quindi avete in mente che c'è un salto di 10.000 ogni volta che facciamo qualcosa. Quindi dire che abbiamo conquistato lo spazio e arrivano la Luna è proprio come aver messo il naso appena fuori dalla finestra. Comunque le stelle riempiono lo spazio circostante in maniera piuttosto irregolare e non solo ci si vedono delle stelle, si guarda col telescopio, si vedono anche delle nebulosità amorfe, diciamo che non hanno una forma ben definita, almeno hanno una forma molto variabile e che qualche volta sembrano confondersi addirittura con pianeti, quelle che erano adeggianti, hanno fatto dei cataloghi, le chiamavano nebulose, ma c'è nebulosa e nebulosa. Kant era molto preoccupato per le cosiddette nebulose ellittiche, quelle, dirò subito, che adesso si chiamano galassie. All'epoca c'erano varie teorie su queste nebulose ellittiche, c'è chi diceva che erano stelle giganti in rotazione, chi addirittura tirava fuori la teoria ridicola, piuttosto ridicola che fossero dei luoghi in cui la sfera delle stelle fisse era sottile, trasparente e mostrava i fuochi del paradiso che erano dall'altra parte. Kant disse invece che è una frase celebre in un suo primo libro di storia naturale, in cui dice così, è molto più naturale assumere che queste nebulose ellittiche siano degli ammassi di tantissime stelle, di cui si può vedere il lucore totale, cioè la luce globale, ma non si possono distinguere le singole stelle. E questa era l'ipotesi vera e diceva anche che queste erano insimili alla nostra, alla via Lattea, cioè la nostra galassia. Questa idea di Kant rimase lì, sulla carta Kant diceva queste cose credo all'inizio dell'Ottocento o ancora nel Settecento e poi il dibattito è continuato avanti senza essere risolto. Di grande importanza, dopo il contributo di Kant, è il paradosso di Olbers. Olbers immaginò che l'universo fosse pieno di stelle tutte più o meno della stessa luminosità e distribuite uniformemente. E con un calcoletto da quattro soldi dimostrò che se questa ipotesi era vera, le notti non potevano essere buie, perché essenzialmente in qualunque direzione si guardasse, la linea visuale sarebbe andata a finire a sbattere contro la superficie di una stella e tutto il fondo stellato avrebbe avuto la luminosità del sole, cosa che ovviamente non è vera. In realtà, come vedremo alla fine, c'è qualcosa di vero nel paradosso di Olbers, ma non conviene svilupparlo adesso. Comunque, questo voleva dire che qualcosa era sbagliato nelle varie ipotesi che correrono sull'universo. Prima di tutto, l'universo o non era infinitamente esteso, oppure non era eterno e immutabile come sosteneva Aristotele. Qualcuna di queste ipotesi, tutte entravano dentro il paradosso di Olbers, doveva saltare in aria. La soluzione è venuta dopo, poi, con i moderni modelli cosmologici, però il paradosso segna, come dire, un segnale che dice che qualcosa era sbagliato nella cosmologia tradizionale. Poi si va avanti, c'è stato un enorme progresso osservativo in astronomia e arriviamo al 1920, quando si è svolto il dibattito storico tra Curtis e Shapley, che erano due astronomi. Shapley era ben noto per aver mappato la Via Lattea. Shapley era il primo che aveva mappato sistematicamente la Via Lattea. Curiosamente aveva anche sovraestimata il diametro della Via Lattea in 300 mila anni luce, mentre in realtà è solo la terza parte. Ma questo, nulla detrà i suoi meriti. Comunque, Shapley era convinto che tutto l'universo fosse contenuto dentro la galassia. In qualche maniera questa galassia era un po' come la sfera delle stelle fisse dei greci. E che era convinto che le nebulose fossero tutte contenute nella galassia. Curtis invece sosteneva essenzialmente la tesi di Kant. Nessuno di due poteva risolvere a quell'epoca osservativamente il dilemma. Però nei dieci anni che sono seguiti fu costruito il telescopio di Monte Wilson, che era ancora in opera, adesso anche se non fa ricerca, a due metri e mezzo circa di apertura. E con quel telescopio Hubble, quello che ha dato il nome al telescopio spaziale, misurò la distanza delle galassie più vicine e si rese conto, è detto una prova osservativa senza ombre di dubbio, che queste galassie erano poste ben al di fuori dei confini della galassia. Dunque erano esterne alla galassia e questo essenzialmente ha fatto vincere l'ipotesi di Kant. Dopo questa scoperta, alla fine degli anni 20, Einstein uscì sulla scena con la teoria della relatività. Si sa già che ci sono due versioni della teoria della relatività. C'è quella della relatività ristretta che appare nel 1905 e poi c'è quella generale che fu pubblicata a varie riprese alla fine della prima guerra mondiale, cioè dal 1918 in poi. Però le applicazioni cosmologiche furono fatte circa nel 1922 da Einstein. Einstein applicò la teoria della relatività a un modello di universo che suppose statico. Einstein era ancora un aristotelico, pensava ad un universo eterno e simmetrico, per quello che ha usato la teoria della relatività, e lo immaginava pieno di una polvere uniforme di stelle, perché non sapeva ancora delle galassie, perché non è ancora chiara l'osservazione e i risultati di Hubble, non erano ancora usciti, si erano usciti 7-8 anni dopo. Comunque immaginava un universo pieno di una polvere quasi uniforme di stelle e cercò di stabilizzarla, però le stelle si attraggono, c'è la trazione indottioniana e un universo di questo tipo non era assolutamente stabile, sarebbe colassato su se stesso in un tempo relativamente breve, dove breve vuol dire qualche miliardo di anni. Allora per stabilizzarla inventò una forma di repulsione cosmica che doveva bilanciare l'attrazione delle galassie, non sentirsi entro il sistema solare, non solo su grandi distanze e questa forza di repulsione doveva bilanciare in media l'attrazione tra le stelle e costruì un modello di questo tipo, che però risulta instabile esattamente come non ci fosse la repulsione per varie ragioni, però fu considerato con attenzione dai fisici dell'epoca, dopotutto veniva da Einstein, cosa non da poco. Verso la fine degli anni 20, ci fu il risultato osservativo annunciato da Hubble, ma anche la pubblicazione di due lavori indipendenti uno dall'altro, uno del padre Lemaitre, che era un gesuita belga, e di Alexander Friedman, che era russo, i quali svilupparono un modello di universo sulle stesse equazioni di Einstein, senza la repulsione cosmica e quindi non statico, cioè non era un universo che rimanesse uguale a se stesso. Adesso a noi importa poco, però all'epoca la dipartita dalla concezione aristotelica dell'universo immutabile era abbastanza traumatica, ma d'altra parte Hubble fece un'altra scoperta altrettanto fondamentale quanto il provare che le galassie sono esterne alla nostra e simili alla nostra. Il Hubble dimostra anche che le galassie in mezzo si allontanano dalla nostra. Quindi entra in gioco l'effetto Doppler. L'effetto Doppler consiste in questo, è simile al fenomeno per cui il fischio di una locomotiva che si allontana da noi, diminuisce di frequenza, è un suono più grave, e invece se si avvicina a noi il fischio diventa più acuto. C'è un fenomeno simile per la luce, cioè se una stella o una galassia si allontana da noi, la frequenza della luce da noi ricevuta diventa diminuita, si allunga a lunghezza d'onda, quindi il colore vira da giallo in direzione del rosso. Se avesse si avvicina a noi si è al fenomeno inverso, il colore per esempio della riga del sodio, come illustrato nelle foto, si avvicina verso il blu. E quindi il cambiamento di colore o meglio di frequenza da una riga spettrale ben identificata ci permette di valutare immediatamente la velocità relativa di questo oggetto, sia esso una stella oppure una galassia, rispetto alla stella, alla Terra. Quindi è stata usata sistematicamente questa straordinaria possibilità osservativa che ci permette di valutare i movimenti degli oggetti che ci sono all'universo. Bene, la gran maggioranza delle galassie viste da Hubble si stava allontanando e questo non è dovuto al caso. Anche adesso con le osservazioni molto più raffinate su un campione di galassie enormemente più vasto di quello di allora, pensate che Hubble aveva 30 galassie sotto mano, adesso ce ne sono non so quanto, ogni anno ne aggiungono parecchie, tutte si allontanano. E quindi l'universo appare in espansione. Se si espande vuol dire che non è statico. Ieri, oggi insomma non è più uguale a quello che era ieri. Le galassie si allontanano una dall'altra. E vedi il caso, questo allontanamento, questa espansione cosmica è prevista dai modelli sviluppati dal padre Lemaitre e da Alexander Friedman. Per cui improvvisamente si è trovate all'appuntamento la teoria e l'osservazione. Va detto che le misure e le stime originali di Hubble sulla velocità di recessione erano grossolanamente sbagliate, erano un fattore circa 8 perché in realtà lui stimava male le distanze delle galassie, c'è una lunga storia che finisce solo adesso essenzialmente in questi anni. Ma ciò non di meno il risultato era valido. Comunque l'universo si espande e quindi che capita? Beh, capita che le galassie domani saranno più distanti tra di loro e ieri erano più vicine. E quindi se si estrapola nel futuro o nel passato la storia dell'universo si vedono cose piuttosto strane. Il modello di Friedman immagina, definito le metri diciamo, che popolarmente si chiama il modello del Big Bang, immagina l'universo come avendo una forma sferica, ma più che altro ipersferica, cioè una sfera in cui si aggiunge una dimensione in più. Tanto per spiegare, un cerchio è nel piano il luogo dei punti che hanno una distanza fissa dal centro. La sfera è lo stesso luogo a distanza fissa dal centro, ma è uno spazio a tre dimensioni. Bene, noi immaginiamo uno spazio a quattro dimensioni e un oggetto simile dei punti che hanno una distanza fissa da un centro dato. Il prendere la distanza fissa toglie una dimensione, per esempio la sfera ha solo due dimensioni, longitudine e latitudine, e uno spazio in cui è immersa che ne ha tre. Allora, immaginiamo uno spazio a quattro dimensioni, fate questa operazione e trovate un oggetto a quattro dimensioni, esattamente come il nostro universo, è però curvo. Quindi noi ci troviamo immersi in uno spazio curvo. Questo spazio, dovete immaginare come un palloncino che si espande e si espande e sopra ci sono disegnate le galassie, gonfiando il palloncino le galassie si allontanano una dall'altra. Non c'è un centro unico da cui tutto si allontana, cioè il centro del palloncino non esiste, tutto quello che esiste è la pelle del palloncino. Lo spazio in cui è stato costruito è un'impalcatura fittizia che dovete buttare via. Dovete solo pensare che l'essere in sé è solo la pelle del palloncino. Allora, gonfiando, le galassie si allontanano una dall'altra. Se voi state seduti su una galassia avete l'impressione che tutti gli altri vi fuggano, però è relativa la cosa. Tutte le galassie, tutti gli abitanti di tutte le galassie hanno esattamente la stessa impressione. Allora, in questo modello l'universo è partito da una configurazione estremamente densa, anzi infinitamente densa, si è espanso e è arrivato fino alle dimensioni attuali e dovrebbe continuare a espandersi, sempre. Se uno va a fare i calcoli scopre che se l'universo è proprio del tipo di Friedman e così via arriverà a una dimensione massima e per poi ricollassare su se stesso in un processo è esattamente inverso. Però il ritorno al punto di densità infinita non appare, non avviene adesso, avverrà fra qualcosa che non è di meno di qualche centinaia di miliardi di anni, ma probabilmente miliardi di anni e come vedremo forse mai. Perché? Perché la soluzione del Big Bang, di Friedman, è solo una delle soluzioni, ne fu scoperta un'altra negli anni 30, in cui l'universo non è più una palla, ha un'estensione infinita, ma anche durata infinita. Cioè è stato scoperto il fatto abbastanza interessante che l'universo ha due scelte, o è chiuso, ossia è un universo finito, è a palla, però la sua durata è finita. Dopo un po' si rinchiude su se stesso in quello che viene chiamato il Big Crunch, che sarebbe in inglese l'opposto del Big Bang. Oppure l'universo è aperto, ha un'estensione infinita, andando in una direzione non si torna mai indietro dall'altra parte, come fare il giro dalla Terra, però la sua vita, la sua durata è infinita, cioè l'espansione non finisce mai. Come si può comprendere questo fatto? Pensate di avere un asteroide e che questo asteroide si metta dentro una carica di esplosivo potentissima, quello esplode, spacca, polverizza lo asteroide e scaglia via i frammenti. Se l'esplosione è stata debole, allora i frammenti si allontaneranno un pochino, poi per la traccia del reciproco ricadono sui stessi. Questo corrisponde alla soluzione chiusa dell'universo. Se invece la carica è potentissima, scaglia via i frammenti e quello non torneranno più indietro. Allentano un pochino, ma non torneranno qui indietro, perché sarebbe la soluzione aperta. Quindi, in sostanza, se c'è molta materia nell'universo e molta attrazione, allora avete la soluzione chiusa. Se invece c'è poca materia, allora avete la soluzione aperta. La situazione osservativa attuale favorisce l'universo aperto. In realtà i più metafisici, tra i fisici, pensano che la soluzione esatta sia esattamente la frontiera tra le due. È un qualcosa che se avesse un pochino più di materia si chiuderebbe e se ne è un pochino troppa, allora si espande indefinitamente. Comunque, questo non è ancora nelle nostre possibilità provarlo. Questa è la visione, più o meno, della dinamica dell'universo. Quando voi, però, comprimete una pompa da bicicletta o comprimete un gas, sapete benissimo che la pompa si scalda. Cioè, comprimendo il gas, l'energia che dovete fare per comprimerlo la trovate sulla forma di calore. E viceversa, se lasciate che un gas si espanda, allora si raffredda. Bene, l'universo si è raffreddato. Cioè, su uno fa il calco e scopre che nel passato deve essere molto più caldo e nel futuro, invece, sempre più freddo. Se l'universo è aperto, dovrebbe partire da una situazione di temperatura teoricamente infinita. Poi, per quello che vuol dire, bisogna ancora fare un po' di parole di cautela a questi infiniti. Cioè, senza dire parole di cautela, un finito segnale semplicemente che la teoria non è adeguata, che bisogna cambiarla. Comunque, l'universo parte da una temperatura altissima e poi si raffredda via via fino a tendere verso lo zero assoluto, nella soluzione aperta. Invece quella chiusa, arriverebbe nell'emissione massica, poi comincia a riscaldarsi di nuovo e a rifare tutto diciamo in tempi inversi. Comunque, siccome le osservazioni favoriscono quello aperto, parliamo solo di quello aperto. Quindi l'universo parte a un certo istante e da quell'istante in poi si presentano naturalmente delle ere cosmologiche in cui avviene qualcosa di caratteristico. Però in uno spettacolo di teatro ci sono gli atti diciamo del dramma e più o meno tutti durano, hanno la stessa durata. E non nell'universo. Il primo atto, la prima era cosmologica dura una frazione ridicola di secondo e vede un'espansione prodigiosa dell'universo perché c'è tutto un gioco di pressioni, di transizioni, quella che si chiama la transizione di fase, l'universo in qualche maniera bolle e allora c'è un periodo di espansione che si chiama il periodo inflattivo, di espansione vertiginosa, rapidissima in cui l'universo si espande e arriva per un secondo avanti, un solo secondo di tempo e durante questo secondo l'universo è pieno essenzialmente di una mistura in parti uguali di materia e di antimateria. Alla fine del secondo materia e antimateria si annichilano la vicenda e comincia a apparire la materia normale come la consideriamo noi. Ora, cosa sono materie e antimateria? Per la materia possiamo pensare a qualcosa come questo paio di occhiali che io posso prendere in mano, siamo tutti fatti di materia, quella che noi vediamo attorno a noi è la materia, però sempre negli anni venti, tutto è capitato negli anni venti, un fisico inglese, Paul Dirac, teorizzò l'esistenza di un altro tipo di materia, in qualche maniera speculare la materia ordinaria che si chiama antimateria e che normalmente non esiste perché se viene a contatto con la materia normale, si annichila con questa e tutta la loro massa materia in materia si trasforma in energia, quindi ne può sussistere solo una e ne vediamo solo un tipo, quello di cui siamo fatti noi. Però in questa prima epoca c'era una mescolanza di tutte le due, queste due qui erano circa in parti uguali, si sono annichilate a vicenda in secondo, per noi sarebbe spaventoso, non saremmo sopravvissuti là dentro e alla fine di questo è rimasto un pochino di materia, è un po' come un negozio di scarpe in cui i clienti entrano e si portano via una scarpa destra e una sinistra, però per caso strano la ditta che costruisce, cioè che fa le scarpe ha fatto un eccesso di scarpe destre, per cui quando la resta degli acquirenti è terminata rimangono solo le scarpe destre, bene noi e tutta la materia di cui siamo fatti siamo delle specie di scarpe destre che non hanno trovato quelle sinistre per annichilarsi. Dopo il primo e il secondo è cominciata l'era nucleare, cioè l'universo era ancora caldo, così caldo, miliardi di gradi, da permettere le reazioni termonucleari e da cui questa reazione è sintetizzata a partire dall'idrogeno degli elementi più pesanti come l'elio, fino anche al carbonio, sempre di meno man mano che questi elementi erano i nuclei più grossi, più difficili da fabbricare. Finiti tre minuti dall'inizio dell'universo, inizia l'epoca della radiazione. L'universo è freddo, freddo per modo di dire, era una temperatura ancora di un milione di gradi circa a quell'epoca, poi ha cominciato a raffreddarsi e è impiegato 300 mila anni per raffreddarsi. Questa è l'epoca della radiazione. Notate l'allungamento dei tempi, prima un secondo, minuti e poi 300 mila anni. Alla fine di questi 300 mila anni si è così raffreddato l'universo da permettere la combinazione di protoni ed elettroni lasciare che formassero degli atomi di idrogeno. Cioè dalla condizione di ione si è arrivati a formare gli atomi. Questo è stato un momento di estrema importanza e vi spiego anche il perché. Quando la materia è scaldata così tanto da ionizzare gli atomi, cioè separare gli elettroni dai nuclei, allora non è più trasparente perché interagisce fortemente con le onde elettromagnetiche e quindi le assorbe e quindi opaca. Chi la guardasse, il plasma si chiama questa materia qui, è quello che si vuole ricreare nei reatori a fusione, il plasma non è trasparente, lo vedete come un gas incandescente ma in cui non passa nulla. Finito questo il gas è diventato trasparente, ha emesso, ricombinandosi uno sbuffo all'ultimo di energia e così è apparsa la radiazione di fondo, è diventato trasparente, l'ultima luce emessa durante questa ricombinazione ha cominciato a circolare per l'universo. Quindi come si vede nella foto lì c'è un radio, diciamo quello di Pences e Wilson che nel 1965 vede la radiazione fossile, non cercavano la radiazione fossile va detto, i due cercavano di trasmettere, mettere su un sistema di trasmissione con i satelliti, più o meno quello che adesso si adopera per i telefonini, erano disturbati da un rumore di fondo di cui non riuscirono a capire l'origine. Dopo molte prove estenuanti si è reso conto che questo rumore di fondo veniva dal fondo dello spazio, non era terrestre. Un astrofisico dell'Università di Princeton, Bob Dickey, spiegò loro che si trattava della radiazione di fondo, lui non prese il Nobel Dickey ma gli altri due sì. Comunque c'è questa radiazione di fondo che è l'oggetto più antico osservabile dell'universo. È stato emesso in maniera piuttosto graduale, non dovete pensare che ci sia stato uno sbuffo e che la radiazione di fondo sia stata emessa nel giro di pochi secondi. No, ha impiegato, chissà, 50 mila anni gradualmente a venire fuori e è cominciato a girare per lo spazio. Ora, questa radiazione di fondo è stata osservata e viene in misura uguale più o meno a tutte le direzioni dello spazio. Solo recentemente, negli ultimi decenni anni, si è cominciato a vedere che non è proprio uniforme l'emissione ma ci sono delle macchie più chiare e più scure, segnale che c'erano già dei luoghi in cui quel gas, il plasma primordiale era più denso e altri in cui era meno denso. Queste fluttuazioni sono poi quelle da cui sono nate le galassie nei tempi successivi. Questo è un primo fatto. L'altro è che questa radiazione di fondo, poiché l'universo all'epoca si espandeva a una velocità incredibile, mille volte superiore a quella di adesso, ha avuto un effetto Doppler vistosissimo. È stata emessa che era luce visibile ma la sua lunghezza d'onda è stata aumentata di un fattore mille per cui non è più visibile all'occhio. Se fosse visibile allora sarebbe come dire vendicato il paradosso di Olbers perché vedremo davvero il cielo luminoso dappertutto. Mentre se non lo vediamo è perché l'oggetto che ha emesso quella luce stava recedendo, questo circa 15 miliardi di anni lo sono, stava recedendo a una velocità altissima per cui c'è stato un effetto Doppler che l'ha reso non visibile. Però il senso se volete ultimo di questa osservazione di Pensa e Wilson è che dopo tutto il paradosso di Olbers non è un paradosso. Il cielo è luminoso. Se il nostro occhio potesse vedere direttamente le microonde allora lo vedremo luminoso praticamente dappertutto. L'osservazione del fondo cosmico è uno dei sostegni, dei pilastri del Big Bang perché è predetto del Big Bang. Fu predetto in realtà dal fisico George Gamow circa durante l'ultimo periodo bellico, pubblicò un lavoro e predisse addirittura anche la temperatura di questa radiazione e vari dati tecnici che hanno trovato piena conferma. Allora vabbè l'universo si è condensato, si è formato dell'idrogeno e questo idrogeno non era uniformemente distribuito, deve pensare aveva dei gnocchi, da qualche parte era un pochino più denso e altri invece posti in cui era più rarefatto. Là dove la densità era maggiore l'idrogeno ha cominciato a trarsi perché c'è la forza gravitazionale che ha aumentato l'addensamento e quindi c'è stata una specie di contrazione molto irregolare da cui sono nate poi le galassie e le stelle. Ci è voluto circa un miliardo di anni affinché queste galassie assumessero la forma che a noi è già più familiare. Quindi a quel punto lì quando le galassie hanno cominciato a formarsi, la materia ha cominciato a essere risucchiata dentro il campo delle galassie, ha cominciato a girare, le galassie hanno preso la forma spirale che c'è più, questo molto gradualmente, che c'è familiare e sono formate popolazioni di stelle dentro, sono ben visibili nelle fotografie. Non dovete pensare che le stelle siano loro stesse eterne, il Sole per esempio si è formato qualcosa come 5 miliardi di anni or sono, ne durerà altrettanto, forse 6 miliardi, poi avrà una fine ingloriosa, ma noi non saremo lì non è questo che ci preoccupa al momento. Ma il fatto è che le stelle, ad esempio, molte stelle quando hanno una massa molto elevata esplodono come supernove e buttano nella galassia della polvere dell'altra materia che si ricondensa formando stelle di seconda o anche terza generazione in un ciclo molto complesso e sul quale io non voglio trattenermi perché esola un pochino dalla cosmologia. Vorrei terminare con alcune considerazioni nel poco tempo che mi rimane sul destino ultimo dell'universo. L'universo, così come lo vediamo, si sta espandendo e si sta raffreddando. C'è chi ha fatto la teoria del futuro estremo, se continua così, ad esempio tutte le stelle della galassia si addensaranno nel nucleo galastico, andranno in un collasso collettivo formando un gigantesco buco nero, le rimanenti evaporano, lasciano la galassia e cominciano a sciamare nello spazio intergalattico che adesso è praticamente vuoto. Poi si spegneranno le stelle perché finirà il loro combustibile, poi evaporeranno anche i buchi neri, poi ad esempio tutta la materia nota, per esempio se uno lanciasse nello spazio una bocce di vetro, una palla di vetro, anche una pietra, questa pietra finirà per trasformarsi in una sfera di acciaio, di ferro metallico perfetto per via di reazioni termonucleari che avvengono nell'interno. Questo è un tempo enormemente lento, una cifra in anni, una seguita da 1500 zeri, poi dopo nessuno sa esattamente cosa capita, di certo l'universo sarà sempre più freddo, sempre più scuro e sempre meno denso, dove andrà a finire? Ci sarà qualcosa? Beh l'uovo così come adesso non potrà resistere in un ambiente di questo tipo. C'è chi, il mio ex collega, amico Freeman Dyson, ha teorizzato la possibilità che in questo universo si sviluppino degli esseri giganteschi, magari a volte grandi come nelle galassie di adesso, per cui il freddo in realtà atroce, siderale che ci sarebbe, è per noi una brezza marittima, diciamo, temperatura del tutto tollerabile, così enormi, la tale che i riflessi per esempio che ci sono nel trasmettere un segnale da una parte all'altra, sono molto più lenti. Se qualcuno mi pesta un piede io mi accorgo dopo un quinto di secondo, cioè il tempo che impiega il segnale ad arrivare dal mio piede fino alla mia testa. Se io pestassi in piedi diciamo a uno di questi esseri, arrivarsi a tanto, beh il segnale arriverebbe magari dopo centomila anni. Quindi i riflessi, ma anche il tempo psicologico, come scorre il tempo, sarebbe molto più lento. Per un essere di questo tipo lo scorrere ad un miliardo di anni corrisponderebbe, non so, a un quarto d'ora. Se si va oltre questo rapporto continua a crescere, allora ha teorizzato una serie di esseri i quali soltano l'eternità avendo dei riflessi sempre più lenti. Invece di, come dire, di accorciare la durata dell'universo, si fa sì che l'orologio vada sempre più lento e quindi segni sempre di meno. Non so se questo è vero. Non è tanto chiedersi se è vero questo. Il punto essenziale è che c'è ad aspettarsi di tutto per il futuro estremo. Cioè, secondo me, è essenzialmente imprevedibile. Potrebbe essere che la zona di spazio in cui noi siamo contenuti adesso, che sembra essere piena uniformemente di galassie, non si mantenga tale al di là dell'orizzonte visibile. Cioè, al momento, dalla Terra, se uno guarda col telescopio a distanza sempre più elevata, vede galassie che si allontanano sempre più velocemente. L'oggetto che si allontana di più e è più distante è la radiazione di fondo. Perché non si può vedere oltre? Beh, perché essenzialmente tentare di andare oltre è come tentare di vedere un oggetto prima dell'inizio dei tempi, cioè prima del Big Bang. Quindi c'è un gruppo di galassie che noi possiamo osservare. Vediamo solo quelle galassie che sono così vicine da poterci inviare un segnale nella durata di vita finora trascorsa dell'universo. Potrebbero essere delle altre più distanti, che noi non vedremo mai, oppure che per vedere dovremmo aspettare miliardi di anni. Quindi man mano che possiamo vivere miliardi di anni, vedremo sempre nuove galassie apparire all'orizzonte degli eventi da distanze inimmaginabili e la zona di universo osservabile diventa sempre, potremmo dire, più grande. Questo è un po' il... però tutto questo è un'estrapolazione dalla porzione di un universo visibile. Ci sono delle teorie che contemplano l'universo in cui, oltre a una certa distanza, tutto cambia, tutto diventa completamente diverso, addirittura cambia... la stessa struttura delle partizioni elementari non è più la stessa e quindi capitano le cose più inverosimili e imprevedibili. In questo caso mancando l'osservazione ci si può sbirzzarire con la fantasia, che non è un esercizio cattivo, che però naturalmente non deve confondersi con una teoria. La teoria è altra cosa. Al momento, stanno studiando le... da qualche tempo, al momento, ormai da un po' di anni, l'oggetto più interessante sono le supernovas. Sono delle stelle che esplodono con una luminosità acceccante, che sono visibili a miliardi di anni di luce, e la cui luce, posizione e spostamento dopo ci permette di mappare l'universo a grandi distanze. Non è finita, la cosa, secondo me, l'osservazione dell'universo non finirà mai. Però certamente avremmo ancora delle sorprese e delle informazioni essenziali che dovranno essere meditate.